P.J. Harvey a Inside the Old, I Dying P.J. Harvey, rappresentante della cooperativa Viso a Viso, organizzatrice dell'evento, abbiamo fatto una sorta di introduzione a questa residenza che è in corso dal 18 giugno e si terrà fino al 23. Intanto possiamo fare una sorta di bilancio a metà percorsa, fino ad ora, fino ad oggi come sta andando? Beh, è fantastico anche perché a metà o gosce è stato un incontro già prima con i suoi libri e poi personalmente è un incontro sorprendente. Lui si è dimostrato veramente interessato dalla nostra realtà, dalla nostra realtà di territorio, da quello che proponiamo. E noi lo invitiamo proprio per, diciamo, in una versione molto pragmatica anche per noi, per quello che è il nostro lavoro. Noi partiamo dal suo lavoro, che ragiona appunto di tematiche ampie, uomo-ambiente, di biodiversità, di queste tematiche fondamentali in questi anni, proprio perché proponiamo la valorizzazione della biodiversità in chiave prettamente economica, sociale e culturale, ovviamente. E a noi serve il suo lavoro perché vogliamo ispirarci e inventare questa nuova prospettiva, che deve essere una prospettiva, come dicevo prima, pratica, pragmatica. Cioè noi siamo una cooperativa che costruisce del lavoro, dell'economia a piccola scala in un territorio e lo vogliamo fare improntandola appunto sulla valorizzazione della biodiversità. Questo è un po'... Tornerei tra poco sul tema della biodiversità perché credo sia, se vogliamo, anche un po' lo snodo, diciamo, di tutto il vostro lavoro, se vogliamo, no, che trova poi compimento probabilmente in questa residenza, in questi giorni. Insomma, ovviamente, correggimi se sbaglio, però volevo tornare un attimo ancora su Amitav Ghosh perché in questi giorni, poi preparando anche la puntata di oggi di almeno due pagine al giorno, mi sono anche un po' documentato, qui tra l'altro vedo tu sei qui con alcuni dei libri della produzione meravigliosa dal mio punto di vista di Amitav Ghosh. In un'intervista sul Corriere della Sera nell'edizione di Torino, gli è stato chiesto da Paolo Morelli, insomma, a Ghosh è stato chiesto come è arrivato a Tostana. E lui dice molto candidamente che in realtà, viso a viso, ha scritto ad Amitav Ghosh spiegando il progetto e Amitav Ghosh ha trovato affascinante queste iniziative legate alle comunità, magari in un futuro, lui dice, potrebbe anche scriverne, insomma, un libro, diciamo, rispetto a questa attività, sarebbe anche... Questo è già... Sarebbe bellissimo. Al di là, diciamo, delle... Di ogni più rossa aspettativa, esatto. Ostana mi ha impressionato perché ha un'architettura integrata nel paesaggio, mi colpisce come è stata ripopolata attraverso un lavoro sostenibile. Poi è stato meraviglioso confrontarsi con una comunità locale degli attivisti, come nell'incontro con i Fridays for Future di domenica. Insomma, la questione legata al ripopolamento di un luogo attraverso attività che sono, come dire, che sono al passo con le persone, credo che sia inesorabilmente il futuro, altrimenti non ne usciamo vivi, no Andrea? Ma, guarda, oggi tra l'altro appunto verrà a discorrere con Goscia Antonio De Rossi che fa parte appunto di, intanto, dell'associazione Riabitare l'Italia che, diciamo, si è venuta fuori negli ultimi anni a livello nazionale, molto, molto, molto importante. E poi l'architetto che, insieme al Politecnico di Torino, insieme a Ostana, al Comune di Ostana, ha progettato le strutture in cui siamo adesso e le strutture che noi, come cooperative di comunità, gestiamo, quindi qua all'Upportun, ma non solo all'Upportun, ma anche le strutture sotto, che si trovano nella parte in basso di Ostana, dove c'è la panetteria, dove noi abbiamo l'asilo nido, dove nascerà tra poco anche il nostro centro benessere. Quindi, lui appunto ieri sul Corriere parla di integrazione, no? Di integrazione nel paesaggio, architettura integrata nel paesaggio e questo è sicuramente la visione che ha una persona che viene per la prima volta ad Ostana, la caratteristica di Ostana che è stata pensata ormai 30 anni fa. Noi siamo qua proprio perché politicamente si è fatta una scelta nel tempo che in questo momento dà dei risultati e ci può offrire queste prospettive di cui parlavo prima. E tutto questo affatica, perché si affatica a fare questa strada qua in un sistema economico che in definitiva va ancora contro a questo tipo di strada. Ma sembra una domanda banale la mia Andrea, ma quali sono le difficoltà principali, se vogliamo, nel portare avanti un progetto di questo genere? Le difficoltà principali sono i nostri comportamenti, il nostro atteggiamento, la nostra cultura e da lì si fatica a uscire perché c'è stato un forte annebbiamento nel nostro rapporto proprio pratico con l'ambiente. Tant'è vero che ci troviamo oggi con dei boschi non curati, non mantenuti, ci troviamo con dei corsi d'acqua non curati, non mantenuti, completamente dimenticati. La nostra civiltà è cresciuta per millenni lungo i corsi d'acqua e adesso i corsi d'acqua sono completamente dimenticati. Lo dice Alpstream, che è un progetto universitario che abbiamo qua ospite anche nella nostra struttura e che parlerà domani nella tavola rotonda. Tutto questo, noi ci troviamo in questa situazione di alienazione dall'elemento naturale. E quindi tutto, o comunque c'è un meccanismo che si è azionato da anni, direi da secoli, ed è difficoltoso riuscire a prendere altre strade. Non è che ci stiamo provando solo noi, è una cosa a livello globale. A volte può sembrare perché appunto questa distanza dall'elemento naturale, dall'ambiente è forte, però dall'altra parte invece noi vediamo che quello che abbiamo qua da offrire, da conservare, ma anche da sviluppare ha un interesse di primaria importanza, perché proprio l'alienazione dall'elemento naturale in questi anni spinge le persone a riavvicinarsi, perché in definitiva abbiamo pensato di poter fare a meno del nostro contatto con l'ambiente, ma stiamo riscontrando che questa strada non è percorribile. Non è percorribile e quindi abbiamo tanto da sviluppare qua, però c'è bisogno di creare molto know-how, proprio per quello che abbiamo bisogno di interventi come quello di Gauche, perché lui nella sua opera sviluppa questo know-how di cui abbiamo bisogno per pensare alla prospettiva, per progettare il presente. Ecco allora Andrea, noi siamo praticamente, chiedo conforto ai tecnici, in coda diciamo alla prima parte, ti chiederei se è possibile di rimanere anche dopo il GR, perché vorrei approfondire ancora un paio di temi, ma insomma mi sembra di capire che abbiamo ancora un pochissimo tempo, insomma ti chiederei qual è la risposta poi in realtà della comunità locale, che è protagonista poi se vogliamo di questa reazione se vogliamo, all'apparente deriva del nostro pianeta in questo tempo. La risposta intanto è quella che ho già detto prima, nel senso che qua abbiamo avuto una prospettiva illuminata nel riprogettare un paese, nel farlo passare da 5 abitanti dormienti 20 anni fa a 50 nel contemporaneo, con un asilo nido da 0,3 anni, e con delle attività culturali che a volte non si vedono neanche nelle cittadine qua attorno. E poi la risposta è presto detta, il nostro gruppo di teatro da 0,99 anni, lunedì, ha messo in scena questo Django Nama, di questa leggenda che Amitav Ghosh ha scritto, ha riscritto, una leggenda che affonda nei secoli del Bengala, quella che noi conosciamo più come la zona e il territorio di Sandokan, con la famosa tigre, lui ha riscritto una leggenda secolare che è appunto ispirata al senso del limite, e il nostro gruppo di teatro qua di Ostana l'ha messo in scena lunedì ed è entrato in contatto con Ghosh in questa maniera. Quindi il comportamento, mi chiedevi, della comunità, è questo come ieri che siamo andati a fare una camminata, purtroppo con il brutto tempo abbiamo raggiunto il Lago Fiorenza qua sopra, sotto il Monviso, insieme ci stiamo conoscendo. Dopo un primo appuntamento di presentazione, che è stata domenica, la presentazione del suo lavoro insieme ai suoi traduttori, stiamo attivando queste pratiche di conoscenza che secondo me sono molto importanti. una cultura applicata, una cultura attiva. Allora, torneremo sicuramente sul programma, intanto ci fermiamo, insomma, perché siamo alla fine della prima parte di almeno due pagine al giorno, spazio all'infotraffico e al GR di Popolare Network, a tra poco. Bachi da pietra, fessura, questo è il brano che ci accompagna all'interno della seconda parte di almeno due pagine al giorno, sono le 10.46 in questo istante, siamo qui a Ostana, Valle Poi, piedi del Monviso, e stiamo raccontando, insomma, questo è il primo appuntamento di oggi di IRB, e stiamo raccontando questa residenza che è culturale, creativa, di ragionamento sui cambiamenti climatici, ma lo stiamo facendo in questa ora scarsa con Andrea Fenoglio della cooperativa Viso. Aviso che ringrazio ancora per la sua disponibilità, tra l'altro mi diceva anche fuori onda, un tutto fare, perché qui a Ostana Res, voglio dire, si può parlare di contenuti alti, ma si deve anche fare la polenta. Ma certo, poi bisogna essere ibridi in questo contemporaneo, riuscire a offrirsi, ma come poi in realtà la società contadina stessa insegna, nel senso, va bene la complessità e quindi, diciamo, man mano andare sempre di più a specializzare determinati lavori, però poi occorre anche, insomma, avere a che fare sia con la pratica che con la teoria, insomma, riuscire ad avere dimestichezza. La reattività è fondamentale. Insomma, comunque, per tornare anche ai contenuti di Ostana Res, il sottotitolo, Decifrare la Terra, relazioni tra ecosistemi e narrazioni, nella prima parte abbiamo ragionato di quanto sia, come dire, anche fondamentale l'apporto in queste giornate di uno scrittore come Amitav Ghosh, diciamo, rispetto anche al modo di raccontare il tempo che viviamo, anche, devo dire, insomma, in certi momenti anche con asprezza, perché, insomma, non le manda dire Amitav Ghosh rispetto a quello che tu raccontavi anche nella prima parte delle nostre responsabilità, rispetto, come dire, al disastro che viviamo in questo momento. Prima di cominciare la nostra conversazione, tu hai anche preso alcuni titoli di Amitav Ghosh, siccome la mia trasmissione molto spesso si occupa di libri, di letteratura, di narrazioni, no? Io, insomma, all'Andrea Fenoglio lettore, allora chiederei anche, come dire, qualche suggerimento letterario di Ghosh, anche per chi ci ascolta, se vogliamo, no? O è anche tuo titolo preferito? Sì, sì, lo dico io, vabbè, intanto non posso dire di essere un conoscitore tutto tonno di tutta la sua opera, però un lettore sì, e soprattutto mi sono interessato molto, molto alla sua opera partendo dai saggi, dai suoi saggi, che sono due, in definitiva, sono questo, La Grande Cecità, te lo faccio vedere di qua, E io lo... Ok, sì, La Grande Cecità, che è uscito nel 2016, se non sbaglio, e invece quest'ultimo, che è appena uscito, Perneri Pozza, che è una maledizione della noce moscata, no? Ecco, questi due li trovo veramente illuminanti. Lui nel primo, La Grande Cecità, parte da un discorso, cioè dal fatto che non sappiamo narrare, non sappiamo... Si chiede perché non sappiamo narrare questo momento, no? Questo momento di cambiamento climatico così dirompente, ecco. E la risposta, da un punto di vista letterario, ecco, si fa una domanda di quel tipo lì, è che il romanzo occidentale si è concentrato talmente tanto sulle vicende esclusivamente umane, da risultare eccessivamente antropocentrico, no? E proprio per questo non riesce a narrare la comunicazione, no? Con l'elemento... Ma c'è in generale una fatica da parte della letteratura a raccontare ciò che non è uomo, diciamo, no? Ciò che non è umano, sì, in sostanza è proprio questo. Cioè, la grande cecità, no? Che è la grande... In inglese è un po' il titolo risulterebbe un po' la grande destabilizzazione. Ecco, la grande cecità è proprio... È proprio questo, cioè una incapacità, no? Di comunicare con il resto del vivente. Assolutamente. Questa visione così esasperatamente antropocentrica fa sì che anche la forma romanzo non sappia in effetti narrare, no? Quello che effettivamente ci succede. Cosa che tenta di fare Goscia anche con queste parabole per un pianeta in crisi nella maledizione della noce moscata. La maledizione della noce moscata è già un'elaborazione. Io penso che dalla grande cecità in poi, ma lo faceva già prima, però dalla grande cecità in poi, lui voglia proprio mettersi alla prova su questa nuova forma narrativa da inventarsi per riuscire effettivamente a comunicare tutto il resto, cioè le relazioni ecologiche di cui facciamo parte, no? e la maledizione della noce moscata fa anche un lavoro che, secondo me, per quello che ho letto di suo, lui fa sempre, cioè questa narrazione storica molto profonda, cioè lui riesce a trattare di tematiche che affondano nei secoli e la maledizione della noce moscata parte da una storia coloniale, cioè della storia degli olandesi che vanno a colonizzare le isole Banda nel mare di Banda dell'Indonesia, dell'attuale Indonesia e vanno a colonizzarla per sfruttare la noce moscata, l'albero della noce moscata, le spezie allora nel 1600 erano preziosissime, loro si impadroniscono, diciamo, di questa materia prima, eliminano con un genocidio la gente del posto e lui fa iniziare da lì questo racconto proprio per riuscire a svelare quello che è l'attuale, cioè quello che è il contemporaneo, quello che continua ad essere il contemporaneo in cui continua a risuonare questo tipo di interrelazioni e anche questa maniera di vedere il mondo essenzialmente solo come risorsa, cioè noi riusciamo a vedere il mondo, il nostro contesto solo come risorsa e non riusciamo a comunicarci. E in questo ovviamente l'India da cui proviene Ghosh e l'Occidente, insomma, i nostri territori, diciamo, si somigliano perché l'uomo tende comunque a sfruttare quello che ha sotto mano senza pensare ai danni nel lungo periodo, lo vediamo anche nei ragionamenti che facciamo rispetto alla crisi ambientale che viviamo, perché tra l'altro volevo chiederti se Ghosh in queste giornate magari vi ha raccontato anche se percepisce anche una differenza se vogliamo di territorio ovviamente c'è insomma tra il luogo da cui proviene e anche un luogo così piccolo come questo che tenta ogni giorno come direbbe qualcuno di allontanare il più possibile la fine del mondo. Ma lui è stato molto ad ascoltare questi giorni, quindi secondo me queste connessioni le darà un po' più quando avremo finito questo percorso e poi non so, secondo me la sua scrittura, il suo ragionamento è talmente d'ampio raggio che non riesce ad adattarsi ai territori, non è veramente quella diciamo quell'elemento di globalità che però ragiona sull'importanza invece del locale ecco no c'è bisogno veramente di tutte e due le forze c'è bisogno di conoscere profondamente tutte e due le cose per esempio si è interessato subito al castagno e subito è stato attratto dal castagno come coltivazione. mentre dicevi questo anche rispetto alle piante insomma anche al castagno cioè una volta si diceva non so se te lo ricordo ma penso proprio di sì fino a qualche anno fa si parlava di pensare globale e agire locale ma diciamo c'era un movimento diciamo che lavorava all'epoca poi siamo stati stroncati da Genova c'è stato un ritorno diciamo anche al privato per tanto tempo quantomeno nel nostro paese ma vale ancora? è una provocazione ovviamente questa perché immagino che voi lo facciate ogni giorno e lo state facendo anche in questi giorni a Ostanares però sì lo si diceva l'altro giorno cioè se ci si basa sulle politiche globali si finisce per essere insoddisfatti probabilmente e quindi quello che sta capitando in questo periodo è forse proprio reinventarsi capendo queste problematiche globali andarsi a spendere su una reinvenzione su una reinvenzione dei territori ecco anche proprio per per riuscire a riattivare le comunità perché quello è essenziale se poi non si riattiva la comunità non si riesce poi a lavorare per riattivare le comunità bisogna lavorare sull'economia anche no? quindi sul lavoro come dicevamo all'inizio sui grandi centri però è più complicato perché sui grandi centri forse appunto c'è c'è più ancora più disorientamento esatto e proprio per questo l'elemento delle aree interne oggi con Antonio De Rossi ne potremo parlare assume una nuova centralità ed è importante prima di tutto la comunicazione perché pensavo ai nuovi movimenti pensavo a Fridays for Future c'è Giorgio Brizio che nella giornata di inaugurazione diceva quantomeno bisognerebbe cominciare come dire a pensare una strategia comune quantomeno dal punto di vista della comunicazione tra chi tra i movimenti climatici e chi fa comunicazione qui siamo all'anno zero insomma bisogna forse trovare anche condividere un nuovo vocabolario per raccontare quello che succede no? sì 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 no è un laboratorio sicuramente è un laboratorio che che ha bisogno di tanta prassi no? diciamo forse c'è stata anche molta teoria in questa frase che dicevi prima no? pensare globale e dire locale però non ci si rendeva conto che quando si agiva localmente non si capiva cosa fare perché si era un po' si era un po' tolti la terra da sotto i piedi ecco e quindi cioè perché non si capisce non si capisce più quali sono gli elementi che ci collegano con il con il nostro ambiente con il nostro habitat ma intanto siamo quasi in coda voglio farti ancora una domanda rispetto al programma invece siamo dicevamo a metà strada oggi in questa prima giornata d'estate si comincia tra un'ora insomma ragionando intorno anche all'attività della biblioteca se non sbaglio cosa succede quanto meno in questa giornata insomma immagino che per la prima giornata d'estate insomma bisognerà in qualche modo anche festeggiare questa giornata diciamo stando al sole qui tra l'altro si sta più freschi a proposito di differenze rispetto a lavare sicuramente molto molto più al fresco oggi avremo per la prima volta l'intervento di Claudia Losi che è un artista che partecipa a queste giornate di residenza insieme a Gosha anche lei ragiona sugli stessi temi appunto di rapporto uomo ambiente tutto quello che abbiamo detto finora quindi il suo è già un lavoro in parte iniziato grazie anche lo stesso Antonio Rossi che l'aveva introdotta già un anno fa alla realtà di Ostana lei viene un po' proprio da ricercatrice per riuscire a costruire degli elementi come facciamo spesso qua noi vogliamo che la cultura come stiamo facendo adesso con Amitav Ghosh sia il più possibile un elemento attivo non solo costruire la conferenza dove si parla delle problematiche e poi però si esce fuori della conferenza magari più confusi di prima ma riuscire a appunto a mettere in moto dei processi culturali e artistici appunto con in questo caso con Claudia Losi alle 12 che verrà come Amitav Ghosh l'altra sera ha interloquito con con il nostro gruppo di teatro da 0 a 99 anni qua di Ostana lei invece andrà a interagire col gruppo di lettura ecco no e usciranno fuori a questo mi interessa moltissimo cioè perché noi approfitto il gruppo di lettura di Ostana a parte della BAU della BAU appunto la biblioteca aperta di Ostana suona come un sogno facciamo racconti in poche battute ma guarda io questo il gruppo di lettura lo lascio a lo lascio a Raffaella Bonino che sentirete oggi poveriggio rischierei di non dire abbastanza però sempre da lettore ovviamente la mia sollecitazione è un progetto nato da da poco proprio grazie appunto ad alcuni elementi della 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 cooperativa che curano di più insieme al bibliotecario che è Eric che il nostro noi abbiamo anche proprio un bibliotecario che cura appunto l'ordine della della biblioteca e io lascerei fare a lei su questo su questo tema qua è un'altra cosa un'altra delle cose importanti che che mettiamo in campo qua in questo centro che è un centro culturale civico del paese e allora Andrea io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui ad almeno due pagine al giorno il tempo è volato e insomma ovviamente staremo qui a raccontare il tutto ma lo faremo come dire anche con le altre trasmissioni di RBI oggi qui ad Ostana grazie buon lavoro per queste altre giornate insomma che separano dalla fine di questa residenza di Ostana io insomma vi saluto vi ringrazio molto per averci seguito sin qui lascio ovviamente la parola e lo spazio al caffè bleu di Claudio Petronella sempre qui da Ostana e noi ci rivediamo per almeno due pagine al giorno domani dallo studio di Torino ma in ogni caso continuate a seguirci perché insomma siamo solo all'inizio di questo racconto sarà una lunga giornata in cui racconteremo da più punti di vista Ostanares 2023 buon proseguimento a tutti